Le tante cose condivise che ho sentito aiutano ad affrontare, anche per inevitabili ragioni di tempo, una parzialità. E questa parzialità è quella a cui ha accennato Francesco Rapparelli nel suo contributo. E' la parzialità degli anni 90. E qui vorrei dire due cose su Tony e gli anni 90 e poi dire due cose sull'ultima discussione fatta con lui quest'estate a giugno a Venezia. Gli anni 90 sono un po' un buco nero, se ci pensiamo dal punto di vista della storia dei movimenti, anche per ragioni banalmente tecniche. Non sono oggetto di quella monumentalizzazione della memoria che spesso riguarda gli anni 60 e 70. Non sono oggetto di quel velo pietoso che viene steso sugli anni 80, ma sono anche gli anni dove l'assenza degli strumenti della rete, di internet, del web... Provate a fare una ricerca Google sulla Pantera, ad esempio, per dire una delle esperienze cruciali della mia, della nostra generazione. Io credo che invece gli anni 90 rappresentino un passaggio cruciale e lo sono stati per il contributo di Tony a tutto quello che siamo e che poi è stato dopo. Non a caso, se guardiamo alla discussione che ha seguito la sua morte, c'è da un lato un'attenzione ovvia sull'esperienza degli anni 60 e 70 e dall'altro, come sembra uscita, come Minerva dalla testa di Giove, la storia poi del contributo insieme a Michael al pensiero e alle pratiche del movimento di critica alla globalizzazione neoliberale o alter mondialista, come vogliamo definirlo. Io penso invece che gli anni 90 sono stati anni cruciali anche dal punto di vista della costruzione di quell'insieme di concetti e di pratiche che poi fertilizzano i movimenti degli anni 2000. In che senso? Se uno, per tornare agli schemi che Sandro Mezzadra negava prima rispetto alla figura di Tony, se uno guardasse in termini di biografia intellettuale alla vita di Tony, secondo i canoni più classici, quelli sarebbero gli anni della maturità, del venire a maturazione del pensiero di Tony. Sono gli anni particolarmente felici della messa al valore, per esempio, dell'incontro con il pensiero post-strutturalista francese, dell'incontro con Foucault, dell'incontro in particolare con Deleuze e Gattari. Sì, sono gli anni, ad esempio, di un libro straordinario come è uscito tra il 92 e il 93 Il Potere Costituente, un libro che in tutte le università del mondo è uno dei testi di riferimento della storia del pensiero politico e costituzionale. E sono gli anni anche, questo va ricordato, del nostro essere comunisti autonomi, e sono gli anni in cui per noi, non solo per la mia, la nostra generazione, ma anche per quelle che ci avevano preceduto, la caduta del muro di Berlino, la fine del mondo bipolare, l'89, il 90, sono una grande liberazione. Noi l'abbiamo salutata e vissuta, a partire anche dalle cose che diceva e scriveva Tony, come la fine di un incubo, la fine di un'ipoteca sulle possibilità contemporanee della rivoluzione. con una liberazione anche di energie, di energie creative, di energie pratiche, di energie sociali, un mondo in cui la fine di quell'assetto bipolare poteva essere un'occasione di apertura di nuovi percorsi, di nuovi percorsi di liberazione. E quindi l'occasione di una rinnovata pratica e di una rinnovata pratica teorica intorno alla costruzione, ma direi ancora di più all'invenzione di concetti nuovi. Lungo i percorsi e le strade dell'inchiesta e della conricerca, sono gli anni in cui nel forzato esilio parigino però Tony è sempre in una dimensione collettiva e i compagni che a Parigi lavoravano con lui, anche per banali esigenze di sopravvivenza materiale, producono delle straordinarie esperienze di ricerca sulle trasformazioni produttive e sociali di quegli anni. e il lavoro sul sentier, il distretto tra il centro e la banlieue nord di Parigi della produzione tessile, raccolto in un libro che si chiama De Santa Prise, Pas comme l'autre, è la lettura di quello che allora definivamo post-fordismo in rapporto alla lettura delle trasformazioni del nostro Veneto, del nostro nord-est di allora. Sono gli anni in cui prende forma il concetto di moltitudine, prende forma il concetto d'impero, sono gli anni del felice incontro con Giuditta da una parte e con Michael dall'altra. Sono gli anni in cui per noi che uscivamo dal movimento degli studenti medi dell'85, dalle lotte antinucleari dell'86, che iniziavamo nel deserto degli anni Ottanta a occupare e autogestire spazi come questo, sono gli anni in cui cerchiamo dopo il movimento della Pantera il rapporto con Tony. E qua va detto una cosa, in quello che rimaneva dei movimenti degli anni Settanta in Italia, c'era un problema che abbiamo ricordato dello Stato, dell'Accademia, il tabù del rapporto col cattivo maestro, ma c'era un problema anche dentro quello che sopravviveva in termini di continuismo dei movimenti. C'era una sorta di ipocrisia per cui si potevano leggere un po' di nascosto i libri di Tony, ma c'era lo spettro della dissociazione delle posizioni politiche assunte in carcere da un pezzo importante degli imputati del 7 aprile romano. E devo dire che gente come me, Luca, la nostra generazione non finirà mai di essere grata alle compagne e compagni della generazione che ci ha preceduto, dei collettivi politici veneti, dell'autonomia veneta, che diedero a costo di rompere con il resto che rimaneva in giro per l'Italia dell'autonomia, ci diedero piena copertura politica nel ricostruire questa relazione con Tony, a partire anche dal fatto che il rapporto appunto tra i compagni dei collettivi degli anni 70, Padovani e Tony, è stato un grande rapporto d'amore e come tutti i grandi rapporti d'amore è stato, diciamo, anche tormentato, ricordiamolo. Allora, questa libertà di cui continuiamo ad essere grati ha significato per noi riprendere a frequentare, iniziare a frequentare i seminari a Parigi a partire dai mesi immediatamente successivi alla Pantera e poi fare appunto qui a Padova due numeri della rivista Rifraff e rompendo, rompendo, è stata, diciamo, devo dire diversamente da quella degli anni 80 a quella degli anni 90, una felice traversata del deserto, non parlavamo più con nessuno in Italia, tanto per capirci, per ricordarlo alle generazioni più giovani, ma ci ha dato una straordinaria libertà, ha aperto uno straordinario spazio di creatività politica, teorica, pratica, che hanno poi ben seminato e hanno prodotto quello che è stato Genova, quello che è stato il movimento globale dei primi anni 2000. con quella che ne ha accennato, Gianni ha usato diverse volte nel suo intervento, questo termine che io credo rappresenti una straordinaria ricchezza, ma anche una maledizione per la nostra tradizione, che è il termine dell'anticipazione, questa capacità che era propria di Tony, ma che poi diventava collettivamente propria, di cogliere e di anticipare la tendenza nella composizione sociale, nelle trasformazioni produttive, nei cambiamenti del rapporto di capitale in quello che apriva. E questa è, come dire, un dono, ma è stata al tempo stesso una maledizione, perché, come dire, quando si anticipa troppo la tendenza, poi diventa anche un po' più faticoso tradurla in azione politica, e diventa un po' problematico sotto certi e tanti aspetti. E voglio chiudere, invece, con l'ultimo scambio avuto con Tony, che, come dire, riguardava anche le cose che abbiamo fatto in questi ultimi anni, che, come dire, partiva da uno scambio, come potete immaginare, negli ultimi mesi di una vita così ricca, e che ha attraversato, appunto, così tanti piani, strati, livelli, e quei tanti piani, strati, livelli, è sempre stato in grado di intrecciare. E che, ovviamente, è materia anche di bilanci, e talvolta possono esserci anche i momenti di malinconia, i bilanci diventano più amari. Però, nello scambio con Tony, quello che poi è venuto fuori è come questa esperienza di lotta che stiamo facendo intorno al tema della libertà di movimento, dei confini, del diritto universale per le donne, gli uomini, di muoversi contro e oltre i confini definiti dalla sovranità statale, ebbè, quello che abbiamo avuto occasione di dirgli è stato guarda che siamo anche in questa esperienza, no? quando abbiamo fondato con Sandro, Mezzadra, con Luca, Mediterranea, guarda che siamo profondamente debitori, anche in questo caso, di uno straordinario metodo che ci ha insegnato. Perché non sarebbe... e ce lo riconoscono per prime le procure della Repubblica che vorrebbero farci fare 15 anni di galera per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina variamente aggravato. E dove dicono, ma questi non sono... lo scrivono, lo scrivono i servizi, lo scrivono le procure nei loro rapporti, questi non fanno attività umanitaria, sono tutti allievi di Tony Negri, hanno un disegno eversivo, cioè, se fanno soccorso in mare, non lo fanno per salvare le persone, e lo fanno perché hanno un disegno eversivo, qualcuno magari suona questa roba qua. E invece siamo stati in grado di rileggere, riattraversare politicamente il terreno dell'umanitario, dei diritti fondamentali delle persone, questa rivendicazione della vita contro la morte, proprio a partire anche da una capacità di leggere in termini di inchiesta la composizione sociale delle donne e degli uomini migranti, di leggere l'autonomia di questi comportamenti in grado di sfidare con coraggio, con determinazione, le frontiere e la gestione capitalistica dei confini, che rappresenta uno dei grandi nodi, delle grandi contraddizioni del tempo che stiamo vivendo. Forse in questo provando a dare corpo a quello che ricorderete tutti, questa citazione di Gustav Mahler sulla definizione di tradizione, cosa dice Mahler? La nostra tradizione non è, non può, non deve essere contemplazione delle ceneri, ma deve essere capacità di alimentare il fuoco e spero che tutti continueremo a provare a alimentare questo fuoco. Grazie.